le macchinine colorate e l'incendio è una bella giornata alla macchinina gialla piace molto nuotare nella piscina di palline quella verde invece è un artista e sta mettendo in ordine i suoi pennelli mentre le macchinine rossa e blu giocano a passarsi la palla oh ma guardate c'è del fumo qualcosa sta bruciando forse qualcuno è in pericolo andiamo a vedere guardate macchinine il garage è andato a fuoco e sta ancora bruciando o no c'è una macchina dentro al garage è in trappola non può uscire perché il tetto è caduto e l'uscita è bloccata cosa possiamo fare potete aiutarla ogni macchinina si è data un compito la macchinina gialla riempie un secchio d'acqua da gettare sul fuoco la macchinina blu invece è andata alla stazione dei vigili del fuoco a cercare aiuto ma non c'è nessuno forse è meglio prendere un estintore guardate c'è l'elicottero di salvataggio può venire con noi siamo tornati al garage in fiamme intanto la macchinina gialla prova a spegnere l'incendio con il suo secchio d'acqua e la macchina la macchinina blu l'aiuta con l'estintore l'elicottero inizia le operazioni di salvataggio e rimuove le parti rotte del garage forza elicottero presto adesso la macchina intrappolata può uscire sei stata fortunata grazie elicottero per il tuo intervento oh oh sta arrivando anche il camion dei pompieri getta della schiuma bianca sulle fiamme che domerà l'incendio evviva grazie macchinine colorate il fuoco è spento e avete salvato la macchina intrappolata ci vediamo presto ciao